Ciao a tutti amici di esperienza mobile, esperienza cinema Sto andando con un mio amico Marco, doveva venire Bea, ma ci ha appaccato A vedere il giorno sbagliato al The Space Siamo pronti, siamo pronti Ho visto il trailer lungo, quindi la mia ipotesi che avevo fatto nel video Quello dei consiglieri del cinema, cioè che Russell Crowe fosse buono Con il trailer lungo ho capito che è una cazzata L'ipotesi E quindi sarà un film molto... Si può dire ipotesi? No, si può dire che sono cazzata Quindi in realtà ho molta paura perché sarà un film decisamente ignorante Che nasce su delle basi molto stupide Effettivamente è una grande innovazione E quindi ragazzi ci vediamo alla fine del film Per le prime impressioni a caldo e poi la recensione a freddo Domani, no scherzo, non so quando, ciao Allora siamo usciti dal The Space, dove devo guardare? Qua, videocamera Buono, buono Lui e Marco, lo vedrete forse in altre recensioni Diciamo che oggi è improvvisata Siamo anche nella sua macchina di quale non farò la recensione Perché no? Una Yaris del 2008 Ah, lasciam stare Scusate, se qualcuno di voi è la Yaris Non è che la disprezzi Diciamo che non è il mio genere di macchina Detto questo Bea la salutiamo e la mandiamo in quel paese che ci ha faccati Ma la prossima volta ci sarà Ciao Bea Esatto Allora Il film Allora commento a freddo Impossibile Il film si merita una recensione di questa qualità Va bene Con la videocamera anteriore del telefono in penombra Vabbè Mettiamola così Mettiamola così Cominci a tu Dai che lui è più analitico di me È più bravo con le parole Ma diciamo che anche tenere un certo ordine è difficile Perché Tutta questa trama Non esiste E infatti Un'ora e mezza di film Che è comunque troppo Se pensiamo a cosa succede Agli accademi Comunque Recitazione di Russell Crowe Lui è piaciuta Per me non ci vuole niente A fare quello incazzato Tutto il film Anche se comunque Ecco Un Russell Crowe di un certo peso Una certa presenza scenica Letteralmente proprio Occupava Una metà Una metà Di inquadrature Quindi Vabbè Allora Partiamo Allora Recensione con spoiler Quindi Spero che Voi lo scrivano il titolo Raccontriremo cosa succede Va bene Perché vogliamo analizzare alcune scene Che sono rimaste impresse Che mi hanno fatto piegare in due Allora Cominciamo col dire che il trailer Purtroppo Come dicevo dall'inizio Rivela il film Ovvero C'è questo Pazzo scatenato Drogato Stressato Stressato Drogato Drogato no Però Vabbè Ha avuto problemi Passato di droga E alcol Che praticamente Fan capire Da l'indial Prima scena Lui entra in Interrompio Mi si dico a cazzare Cavolate Lui entra in casa Della sua ex moglie Perché è lì Che si toglie la fede In macchina Fa una strage Ammazzare il nuovo marito E la moglie E dà fuoco alla casa Scena comunque Poco rilevante Anche rispetto All'andamento del film Diciamo che serviva Per determinare Gli argomenti In cui lui era sensibile Ah esatto Bravo E diciamo anche Che il film comincia Con tutta una sorta Di sceldi Penso Immagini vere Di litigi In America In America Persone che sclerano Sì che sclerano Che si insultano Che scendono Che si pestano I semafori Dei pazzoli In America Qua ce ne sarà uno Su 10.000 Ce ne sarà uno su 100 O no O è troppo D'erba un fascio Dai uno su 1000 Comunque Diciamo che Il film Poi taglierò le parti Diciamo in più Ma tranquillo Questa forse la lascio Allora Detto questo Il film Quindi così Diciamo che parte Proprio con lui Che è in strada La mattina dopo Dell'omicidio Della ex moglie Tranquillo Becca i due protagonisti La tippa La tipella La protagonista Rachel E il figlio Kyle Kyle E niente Per un clacson Di troppo Lui si incazza Perché gli obbligo Dà la possibilità Di chiedere scusa Dà la possibilità Di chiedere scusa Però siccome L'affermo al verde Lui si scusa Però lei no Lei no Perché sostiene Deve non avere nulla Di cui scusarsi Giustamente Anche c'è Uno suona Va bene Fan cura Si prende un insulto Va via Esatto Esatto E scusate le parolacce Non lo dico Detto questo Vabbè Da lì incomincia Un inseguimento Una persecuzione Del Russell Crowe Alla protagonista Però non è che Segue loro due Cioè praticamente Il fotte il telefono È una stazione Di servizio Cioè Lei mentre Deve andare a pagare Lui entra in macchina Il fotte il telefono Per acquisire Le informazioni Su di lei Intanto Lo sapremo dopo Ma intanto Accende anche l'iPad E così dopo Riesci a tracciarli Con l'applicazione Di Apple Sì Va bene Ok Quindi sa dove sono Più o meno Ok Parte in inseguimento Si porterà Tutto scritto Diciamo tutto da copione Nel senso che Il bambino all'inizio Chiama il padre Da cui lei sta divorziando Esatto Attraverso Un avvocato Amico Amico suo Quindi in definitiva Il Russell Crowe Che interpreta Tale Tom Cooper E' particolarmente Astioso Nei confronti Di Di un personaggio Come la protagonista No Diciamo che lui Odia i divorzisti Perché ovviamente Gli l'ha messa in quel posto Lui ha perso un sacco di lavori E si sente attaccato Esatto Anche per questo Un po' dalla società Poi evidentemente Anche dall'ex moglie Eccetera Esatto E' il classico film Che tutte le cose Che vi fanno vedere Allora è vero Che in tutti i film Le cose che vi fanno vedere Servono per la trama Va bene Qui però Il proprio classico film Che ci ha Come si dice Telefonato Termine calcistico Nel senso Si intuisce perfettamente Allora Il bambino parla Di un gioco Di fortnite Degli schemi Che vuol fare E poi ovviamente Io gli ho detto Guarda Questo lo uso alla fine Per combattere E infatti lo usano Fanno vedere La macchina della vicina Figa Nuova Infatti da prendere Russell Crowe Per l'inseguimento Lei all'inizio In cucina Cerca un paio di forbici Precise E questa è già una chicchetta Perché alla fine del film Saranno fondamentali E ci si chiede Ma le ha avute in tasca Per tutto il tempo No in realtà Le ha prese dopo Dalla borsa Che aveva in macchina Eh beh Ce l'ha avuta in borsa Sì Non so perché Non mi ricordo Perché le aveva prese Aveva con sé delle forbici Sì perché lei faceva Non so cosa Roba di lavoro Tipo parrucchiera Sì comunque Non sguattava nessuno Ma questi sono dettagli Che se ne frega Il succo è Tutto telefonato Tutto chi ha Cioè lo sapete Di dieci minuti prima Come andrà Ed è anche quello Che fa un po' ridere La scena finale Infatti L'erano in Twitter E fa ridere Perché è una trashata Comunque Alla fine Cosa succede Lui prende il telefono Gli dice Adesso ti farò vedere Cosa vuol dire Una brutta giornata Vado all'avvocato Diciamo anche Che lui avrebbe accettato Un clacson di cortesia Esatto Anziché una suonata nervosa Esatto Avrebbe voluto Un Ecco una cosa Così lieve Una cosa E quindi vabbè Però adesso Cioè diciamo che Il film l'avete già visto Voi che vedete questo In teoria Se no vabbè Non vi perdete niente A vedere Non è il film dell'anno Anzi comunque Andrò a vederlo Nemmeno nel 2020 Esatto Che ce ne sono i tre Bella questa Allora Il succo è Allora Fammi fare il succo Allora lui Comincia a fare strage Dei suoi amici Parte dall'avvocato In mezzo In un bar In un bar Questa è una scena Quasi degna di Tarantino Beh in un bar Chiama lei E gli dice Guarda Sono qua col tuo amico E lei dice Guarda che questo Non è il mio amico C'è Blah blah E dice Ok L'altro Tra l'altro Se posso Degli sganassoni Degni di Bud Spencer Si Si vede che lui colpisce E non arrivano A colpirli veramente Mettono il suono E sto qua che cade Con un po' di sangue E succo di pomodoro E ketchup in faccia Esatto Allora Praticamente comunque Fa fuori l'avvocato Nel senso È lì al bar Gli dà due tuoni in faccia Gli tira la cravatta E dice Cosa diresti al tuo amico avvocato Come le ultime parole Troppo tardi Bam Mi ficca un coltello nel collo Va bene Tutti che fanno i video Nessuno fa un cazzo In America Uno su tre Gira con un mito in tasca E nessuno fa un cazzo Cavolo Va bene Perché sono i social L'arma più potente Esatto Bravo Queste sono le metafore Che voleva lanciare Marco per i sociali Marco per i sociali Farà un canale youtube così Tra l'altro è un freestider Quindi può anche sparare un freestider Sapeva che andavamo Questo lo taglieremo No Tanto dai Sotto i dieci minuti va bene Il video Allora Continuiamo con Ammazza un po' tutti Poi Ah si va Tutte le persone che cercano Di aiutare la protagonista Insomma diciamo che un po' le prendono Diciamo che lui dice Senti ma dimmi che vuoi Che ammazzi adesso Lei dice una Paresemente lui non va da quella Va a uccidere il suo fratello No Va da A casa Che c'era il fratello Con la fidanzata Che fa una bruttissima fine Esatto Legga il fratello Legga il fratello Gli fa prendere fuoco Ma in quello arriva un poliziotto Che gli spara una spalla E vabbè Irrilevante anche questo Perché non gli fa niente Coriaceo Coriaceo L'unica roba che cambia Forse è che prima guidava Diciamo così Cioè tipo uno snorlax Sì è Tipo gigante Dovrebbero sparargli dieci colpi In fronte per uccidere Per abbattere Infatti poi vabbè Adesso arriviamo alla fine Però prima di andare alla fine L'unica roba che cambia Col proiettile sulla spalla È che prima guida normale Poi guida tipo così Fanno in seguimento così Forse non avrà tempo Di spostare il sedile Quando fanno in seguimento Era così E infatti era l'auto della vicina Era l'auto di una donna Quindi magari non ha spostato il sedile Vabbè Poi vabbè Scende in basso Ah sì Ah beh Un'aruba che mi ha fatto spezzare In due Ogni volta E succede due volte nel film Che lui Allora a un certo punto all'inizio C'è uno che aiuta Lei è la stazione di servizio E c'è un ragazzo Che gli dà una mano Esce con lei E cerca di bloccare Di fargli capire Di stare tranquillo E sto qua si incazza Lo prende sotto con la macchina Lui è l'auto laggiù E in quello Passa una macchina Che stende Subito Il tipo Poi succede la stessa cosa Con una pattuglia Una macchina della polizia Perfetto Una macchina della polizia Arriva E lui Si scontra Tampona la macchina Sperona la macchina della polizia Che va nell'altra corsia Mezzo decimo di secondo dopo Passa un tir E gli passa sopra Proprio Asfaltando Appiattendo Cosa che è impossibile Con un tir Che inchioda Vedendo un Andava dall'altra corsia Quindi vede Che cosa succede In chioda E' impossibile Che passi sopra una macchina Quindi vai Al solito Si stiamo ad analizzare Ste cose No no Non era certamente Tutti i film Sono delle baccate Esatto Però far ridere Perché succede Questa scena qua Tutto uguale Anche meno peggio Di quello che pensassi È questo film Comunque No io me lo sceltavo Un po' meno ignorante Cioè nel senso No no Era Poi daremo i voti La fine Il voto di più E il voto mio Perfetto E che lui dice Io sono stretto di male È vero lo so Il mio voto massimo È sette e mezzo Quindi Allora Quindi questo prende la sette No Dipende su quanto Dipende su quanto Su sette e mezzo Allora no Comunque Finiamo il discorso Scene finali E lui mi ha fatto notare Una chicca Che io non mi sarei accorto Ma Mi ha fatto letteralmente Ridere C'è da dire che arrivano Diciamo prima come li ammazzo Vai Poi gli racconti la chicca No perché Lui è arrivato alla casa Dove vivevano Allora arriva Ah sì Ovviamente arriva Allora Diciamo così Loro due Alla fine usano Questa tecnica di fortnite Del bambino Del gioco Quindi vanno nella casa Della nonna Loro la conoscono bene Io Mi aspettavo un po' di scherzi Alla Mamma perso l'aereo Ed effettivamente ci stava Ci stava Lui entra in casa Ci sarebbe Cobra Fermo dove sei E i miei soldi Quali soldi Vabbè Non facciamo Ci sarebbe stato tantissimo Comunque non c'erano scherzi Alla mamma perso l'aereo Però sarebbe stato figo Comunque Lui Lui vede lì Allora si ferma quella macchina fuori Bindola dentro Nascosto Lei sapeva che lui sarebbe arrivato lì Si era messo con la macchina Lei si era messa con la sua macchina Dall'altra parte della via E appena lui si è fermato Lei bam Lo sperona E avevano già detto L'interfim Perfetto che quella Poteva essere la soluzione Da subito Anche perché con quella macchina Non aveva da perdere nulla La macchina si ribalta La macchina della vicina Che usava Russell Crow Si ribalta Lui E niente Lui esce non si sa quando Lui esce in un decimo Era già fuori Lei era lì con una mazza Da non so che Tipo da golf Lui in un secondo Era già sparito dalla macchina Classica scende E la colpisce alle spalle Con un proiettile In cui Ribaltato Non si fa niente La prende Gli dà due tornate Dalla Bud Spencer E va dentro A cercare il figlio Esatto Allora si Gli dà delle tornate Ha delle mani così Lei ha la testa grande così Lui ha le mani così Gli dà due tornate in faccia Lei manca un graffio Praticamente Le prime due pelli L'auto rimane ribaltata L'auto rimane ribaltata E beh Diciamo una chicca alla fine Ok perfetto Quindi lui La chicca mi ha fatto notare a lui Bellissima Allora L'auto solo ribaltata Non è che la piegacca Trocciata L'auto ribaltata Una familiare Una monovolume Una marca americana Non so Mai vista qua Da facciamo brutta figura Ma una macchinaccia comunque Oh alla fine Vabbè L'hai Il bambino è nascosto in un Sì in un nascondiglio L'hai entra Si fa scoprire La madre va ad aiutarlo Deve morire Perché se devi fare una cosa Stare zitto Nasconditi Ti fai cadere dieci vasi Devi morire Deveva morire Te la vai un po' a cercare Esatto Allora come negli horror Che la gente si divide La prima roba Non capisco niente Dai con lutazione Con lutazione Alla fine Boh Lei prende l'altro 2000 pugni in faccia Col tanto che basta Per restare struttita Tramortita La dose perfetta Per non uccidere Però per tramortire Esatto In tutto questo Lui intanto cerca di ammazzare Il figlio di lei Con Con un cavo elettrico Con un cavo elettrico E lei allora Prende le forbici Fa un salto Che si ricorda di avere con sé Dopo due ore Salta Dal letto E le ficca nell'occhio A metà Metà forbici nell'occhio Lui E così Torna un po' su Ancora vivo C'è ancora Vabbè Con metà forbici In ficcata nell'occhio Lei salta Gli dà un calcio Sulle forbici Con la frase Eccoti il clacson Di cortesia Eccoti il clacson La chicca Allora In tutto questo Arriva la polizia A fare l'interrogatorio Benissimo E lui mi fa notare In secondo piano Mentre lei Interloquisce Con il poliziotto C'è il carroattrezzi Che porta via L'auto della vicina Ribaltata Rimasta ribaltata Cioè L'hanno caricata Sul carroattrezzi Capovolta Sotto sopra La porta via ribaltata Effettivamente Io adesso Non ho mai visto Una macchina sana Cioè Persa per persa No ma In due Bastava ribaltata E vabbè Detta così Forse non fa tanto ridere Ma nella scena Quando me l'ha detto Vi giuro Sembra un po' Non serio Anche quelli dietro di me Che hanno sentito E hanno piegato in due Cioè quindi Veramente faceva ridere La scena ragazzi E poi Lui scherzando fa Alla fine Adesso ricomincia In loop Che suona un altro tipo E ricomincia E io Boh Ci sta Ebbe Mi sembra troppo una trasciata Due secondi dopo Semaforo rosso Passa uno Lei lì che sta per suonare Si ferma E il figlio Ottima scelta Mamma Ecco Tre Anche se avrei preferito Una suonatina di cortesia Come ha insegnato Il buon Russell Crow S'era stato più Io avrei preferito Invece Ironico Avrei preferito Che uno Direttore di lei Avesse suonato Perché non partiva E avesse scelato lei E lei avessi detto Chiedimi scusa Avrei preferito questo Comunque Più contagioso del covid Questo è il film ragazzi Dai meno di 16 minuti Non ce la facciamo in tutto Perché Mi dobbiamo raccontarlo il film Se no che recensione Per ridere Poi qua è un film ignorante E ce n'è di peggio Allora per me Voti ignorante Allora Facciamo una scaletta di tre cose Facciamo trama Trama Recitazione E dai Scusa Trama Recitazione E Allora ragazzi Lui non è d'accordo Io voglio così Il mio canale Decido io Dai E chi non è d'accordo Ha bannato dal canale Attenzione Allora Io dico Trama Recitazione Recitazione E secondo me Diamo gusto personale Diciamo la componente Facciamo una componente oggettiva Dobbiamo cercare Di essere oggettivi Sulla trama Recitazione E dare una componente nostra Su Una soggettiva Dai Allora per me Trama Cinque E do cinque Perché Diciamo che ok Vogliono Diciamo che è un film Che insegna Che gli americani Sono pazzoidi Per come lo vedo io Nel senso No che vabbè Non ha una trama Fondamentalmente Quindi cinque Sono anche buono Per me trama Sei Dai Un sei politico Di sufficienza Perché lui arriva al dieci Come massimo voto Io però No non ci arrivo Quindi diciamo Che vabbè Sono equivalenti E poi Come il voto Che diamo alle ragazze Attenzione No scherzo Allora Guarda Questa è una battuta Sessista Che toglieremo Bisocculo Dai Togliamo No parole No per Audis Allora Allora Dio dove ho tagliato Vabbè Comunque Quindi poi Poi recitazione Allora Boh sei Io spaccherei In due Direi Un senza Infamia nel lode Alla protagonista Sì ma nel senso Però considerato Che di mestiere Fai l'attore Se sei insignificante Vuol dire che hai fallito Cioè Quindi Non è così male lei Appunto Quindi non è che Sia niente di che Vabbè 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 le do anche Cinque Cinque e mezzo Un viaggio a mente di Marco Invece Un Russell Crowe Che a me è piaciuto Personalmente A lui do Ma Come solo recitazione Quindi Completamente scollegato Dalla trama Un 8 che lo do Qua si spreca un voto i ragazzi Va bene Allora Se non altro per la fatica Di ingrassare Fino a quel punto Vabbè Ma fatti come Gusti personali del film Io gli do Un Cinque e mezzo Gli avevo dato Cinque Gli do cinque e mezzo Perché ho goduto Quando gli ho ficcato Le forbici nell'occhio Come sempre Gordo in quei momenti E perché comunque Mi ha fatto fare due risate Ignoranti Che a me Fa sempre piacere Assolutamente Assolutamente Ma Allora Quindi il suo cinque e mezzo Su sette e mezzo Mi pare di capire Allora Il mio voto finale Facendo la media Quindi adesso sbaglierò la media Cos'ho dato Cinque Sei Cinque e mezzo Cinque e mezzo Dai Il mio voto è cinque e mezzo E sono L'arghetto Perché di mio Così avrei dato cinque Vabbè La matematica mi ha fagato Ma dai Io gli do sette Con il punto simpatia Quindi con una media Arrivo al sei Politico Sei abbondante La tua media Però la simpatia Sì La tua media Sei meglio Vabbè Gli ho dato cinque Dai Marco fa sempre un voto Più di me Comunque Mediamente Sappiamo Sempre un passo avanti Bene ragazzi Per questo video È tutto Intanto la macchina spenta Sarà con la batteria scarica Spolliciate Bene Ci vediamo nei prossimi video Forse con Marco Spero anche con Bea In tre non ci stiamo Quindi dovrò fare una selezione In base a chi avrà più likes La se le sao Chi avrà più likes Fa questo e l'altro video Che ho fatto con Bea E vedremo chi la vince Chi la spunta Io non vedo differenza di fascino Beh Sei molto meglio tu Grazie cara Bene ragazzi Un saluto da Lorenzo e Marco Per l'esperienza Mobile No esperienza motori Mobile E qua siamo nella sezione fuori tema Si chiama Perfetto Ciao